Alpini e media nord-est, un binomio inscindibile. Anche in occasione del centenario della sezione Monte Ortigara e dei gruppi alpini di Asiago e Gallio, le nostre telecamere e i nostri microfoni vi racconteranno sfilamento, cerimonie e testimonianze delle celebrazioni previste in diretta sabato mattina dalle 8 e 45. Questo è il periodo dei centenari, dopo il centenario dell'associazione nel 19, le sezioni storiche che sono costituiti nei 5-6 anni successivi festeggiano il loro centenario. Tra queste ovviamente la sezione di Asiago, direi che è una sezione storica per eccellenza, legata ovviamente a un monte per noi sacro, che è il Monte Ortigara, per cui sabato e domenica sarà una cerimonia e una festa doppia. Il sabato per i cento anni della sezione dei due gruppi la domenica, come al solito, il pellegrinaggio al Monte Ortigara, che è veramente il nostro punto di memoria, il nostro punto di incontro e anche il momento per ribadire come sempre la validità dei nostri valori e della nostra identità. L'Associazione Nazionale Alpini è stata riconosciuta a pieno titolo nell'ambito del terzo settore, grazie alle tantissime iniziative di volontariato. La nostra sintesi è questa, da un lato memoria, dall'altro solidarietà e aiuto, soprattutto chi ha bisogno. Lo abbiamo sempre fatto in questi 105 anni di storia dell'Associazione, continueremo a farlo e appunto come accennava lei, finalmente anche il Parlamento, e mi piace anche ricordarlo, con nessun voto contrario, sia la Camera che il Senato ha preso atto della specificità delle associazioni d'arma, ma anche della loro forza all'interno del volontariato. Alla cerimonia di Asiago sarà presente anche il Laboro Nazionale degli Alpini. Memoria e valori li ritroveremo tutti nella diretta di questo sabato, dalle 8.45.